C'è molta più pressione per noi, il fatto di giocare una partita e far male, forse a volte veniamo messi da parte, oppure come il fatto di poter far bene una partita e poi di nuovo non trovare quella continuità che magari forse un giovane all'estero ha. Ma questo penso sia la differenza più importante, stiamo cercando di far giocare più giovani possibile, però non vedo questo grande cambiamento e il dato di fatto è che ci sono più stranieri che italiani. Per noi che giochiamo e che noi siamo giovani comunque dispiace.